leo e lo spazzaneve guardate questa è la casa di leo il camion leo vieni fuori quanta neve qui davanti se leo attraversa questa porta può salire in ascensore dal secondo piano si può scendere dallo scivolo tutte le strade sono coperte di neve è tempo di costruire uno spazzaneve leo scarica i pezzi leo abbiamo tutto quello che ci serve un grande telaio le ruote il motore il cruscotto adesso la piastra ecco la turbina per raccogliere la neve dalla strada ed ecco lo scarico per sparare la neve sul ciglio della strada o sul cassone di leo è quasi tutto pronto ma ehi manca una ruota leo andiamo a cercare la ruota non è sotto l'abete non è sotto l'abete non è neanche qui guardate è quasi coperta dalla neve è quasi coperta dalla neve non è una ruota non è una ruota nemmeno questa è questa ma certo metti la ruota nel cassone leo e adesso posizionala la ruota nel cassone evviva lo spazzaneve è pronto vediamo come funziona spettacolare funziona molto bene e la neve non va sul ciglio della strada ma nel cassone di leo e le strade così sono pulite ora leo può raggiungere la sua casa senza difficoltà ehi leo buon divertimento è bello quando c'è la neve a presto ciao leo e lo slittino da neve guardate è leo junior sta guidando nel parco giochi chissà che cosa trasporta ciao leo ehi ma quello è un cappello di lana vuoi davvero indossare fa troppo caldo però ti sta bene adesso che cosa avrà in mente leo ma questa è una stazione di treni e arriva un treno leo vuole viaggiare siamo arrivati in montagna siamo arrivati stazione di montagna è bellissimo qui ma è freddo la neve è ovunque ecco perché leo voleva il cappello perché sei venuto in montagna che cosa vuoi costruire adesso un telaio hai messo degli sci un sedile e un volante ah lo so è uno slittino leo sembra che manchi qualcosa nella parte frontale io credo che lo slittino sarebbe più governabile se avesse uno sci in più guarda lì 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 è pronto Leo, Lifty, andate anche voi! a presto! Leo il camioncino curioso e l'asfaltatrice sulla strada del parco giochi rimane qualche traccia di neve e molti veicoli sono tornati a viaggiare la temperatura sta salendo e la neve si scioglie ma guardate, si è formata una mucca ed è bella profonda quello laggiù è Scoop si avvicina senza troppa fretta forse anche un po' distratto attento Scoop molto distratto la tua ruota si è incastrata Scoop, non rovinare lo pneumatico sta arrivando Leo ciao Leo, guarda un po' che è successo vediamo come vi organizzate sapevamo che ce l'avresti fatta grazie Leo Scoop può ripartire ma la strada non può rimanere così Leo costruiamo un veicolo per riparare la strada? andiamo Leo ha portato dei pezzi per costruire una macchina per riparare la strada e ora ne scarica degli altri sai come si chiama? asfaltatrice prima di assemblare i pezzi mettiamo un cono segnaletico per avvisare chi arriva del pericolo e infatti anche la macchina della polizia si ferma e poi prosegue con prudenza assembliamo un telaio il vano motore che va sopra il telaio il vano motore che va sopra il telaio due ruote due cingoli la postazione del conducente la postazione del conducente con il sedile infine ecco il rullo chiodato mancano solo le luci frontali due cingoli ah no no manca qualcos'altro eh sì cosa ci va lì dentro? anche se non sappiamo esattamente cosa sia andiamo a cercare la parte mancante qui ci sono tre tubi quali prendiamo? quello giallo? no no questo rosso? nemmeno ma allora questo blu sei è il tubo per sparare via all'asfalto rimosso e adesso lo mettiamo al suo posto il veicolo è pronto guardate sta rimuovendo i pezzi del vecchio asfalto riempiendo il cassone di leo un lavoro perfetto Scoop sta portando dell'asfalto nuovo eh sì lo mette in più punti ma a stenderlo ci pensa il rullo compressore la strada è stata riparata adesso tutte le macchine possono percorrere di nuovo la strada leo dove sei sparito? sei qui alla prossima puntata ancora più divertente ciao le macchinine colorate spalano la neve buongiorno macchinine sorpresa durante la notte è nevicato la neve è bella ma forse troppa la vogliamo spazzare via? spalla i secchielli? spalla i secchielli? la macchinina verde sa dove trovarli due palette e due secchielli iniziamo a spalare la neve ma è anche divertente scorrazzare sulla neve al lavoro la neve è tanta ma non dobbiamo scoraggiarci spalla e ma non è abitare la nuve spalla 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 questo secchio è quasi pieno e anche qui non ce ne va più portiamo la neve al margine della strada la macchinina rossa sta scavando cosa pensa di trovare guardate uno spazzaneve che bella sorpresa capita a proposito ci aiuterà nella nostra missione fantastico andiamogli dietro sta pulendo le strade ma sono ancora scivolose un momento macchinine spargiamo del sale dove è passato lo spazzaneve andiamo a prenderlo vediamo cosa si inventano sembra un segreto eccole con dei bidoni sul tetto e gli spargi sale un disco che ruota sparge il sale questo sì che si chiama collaborare il parco giochi è di nuovo pulito e sicuro insieme faremo tante cose nella prossima puntata ciao a presto le macchinine colorate e il gran premio la macchinina gialla in testa via veloci le quattro macchinine colorate stanno giocando ad inseguirsi tra i giochi del parco ehi macchinine ehi macchinine volete gareggiare su una vera pista da corsa bene andiamo a prendere posizione siamo arrivati questa è la linea di partenza semaforo rosso giallo verde e via attenzione ai coni non dovete toccarli e poi dentro il tunnel una curva veloce è da affrontare con prudenza ecco le pedane macchinina verde tutto bene? sembra di sì ed ecco i dossi sono come delle grandi due non lì macchinina gialla l'altra corsia siamo arrivati ad una vera pista da pattinaggio non è facile correre sul ghiaccio così scivoloso forse dovreste provare a guidare più lentamente macchinine sì è proprio come danzare o patinare sul ghiaccio bene ora è il momento di tornare in pista e proseguire la gara e ora con la velocità si riesce a percorrere l'anello anche a testa in giù è molto difficile noi guardiamo tutti con il fiato sospeso siamo alle premiazioni macchinina blu hai vinto il primo premio macchinina gialla hai vinto il secondo premio macchinina verde il terzo macchinina rossa hai il quarto premio è stata una gara divertente le macchinine colorate preparano l'albero di natale evviva sta arrivando il natale luci colorate palline innevate regali ma prima di tutto l'albero di natale oh attenzione ci sono tanti alberi di natale ne scegliamo uno e questo piace molto alle macchinine gialla e verde ma non ha le macchinine blu e rossa vediamo oh questo così grande approvato e non è un problema portarlo via la macchinina verde ha un rimorchio attraversare il parco giochi con quest'albero ci fa sentire in pieno clima natalizio va bene qui? allora cerchiamo le decorazioni ehi ehi macchinina blu c'è qualcosa lì per terra tira oh no non ci può servire giusto guardiamo nel garage c'è qualcosa? sembra di no ehi delle luci natalizie come farai a tirarle giù? molto ingegnoso che bei colori andiamo a metterle sull'albero macchinina rossa? non vorrei giocare a pallone eh sì nel cesto c'è solo il pallone forse qui nella piscina? no la neve è troppo alta è pericoloso bella idea spalare la neve e vedere cosa nasconde eccole sono le decorazioni dell'anno scorso è giusto averle conservate andiamo macchinina verde non hai trovato nulla? cosa fai con i blocchi? li metti a posto ma e va bene ci sarà più spazio il pallone va nel cesto ottimo guarda nella neve c'è qualcosa è la punta dell'albero che meraviglia mettendo in ordine hai trovato quello che cercavi la macchinina gialla ha preferito andare al supermercato qui i decori non ce ne sono e qui? nemmeno forse qui? caramelle bellissima idea alla cassa e via all'albero di natale è il momento di mettere tutto insieme eccolo regali regali luci caramelle l'albero è bellissimo siamo pronti per il natale auguri a tutti e qui? 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 e qui?